è stato un match molto difficile perché è stato molto più bravo dell'ultima volta però ho tenuto duro fino alla fine e per fortuna è andata bene andata molto bene dici i tuoi progetti marco adesso per cosa vero sarà impegnato adesso non abbiamo match in programma però adesso mi riprenderò un po dagli acciacchi di questo match che non mancano ma esatto e poi vediamo cosa c'è io comunque appena mi riprendo sarò subito pronto per risalire sul ring